Ciao ragazzi, eccoci in questo nuovo video di sponsorizzazioni canali naturalmente oggi sponsorizziamo, aspetta, devo ricordare l'ordine prima dei libri un video perchè me l'ha chiesto per primo allora, cerchiamolo ecco lo sapevo, ho aperto una pagina che non vuole non si sente le voci non stoppo il video perchè se faccio così, cioè stoppo il video comunque vediamo iscritti 168 non vuole spoilerare quello che ha fatto perchè sennò non mi piace spoilerare non tanto, ma solo le cose mie è l'ultimo video, come sempre è uscito perchè il nintendo e3 come si chiama beh c'era si poteva giocarci a questo nuovo gioco a me a prima vista sembra figo questa è vera non so che vediamo non so questo è fake questa immagine sembra fake questa è vera vabbè comunque non volevo luogare il brodo e purtroppo non posso iscrivervi cioè mi sono iscritta ma con il mio con il telefonino che in cui ora sto registrando ok quindi il canale è fatto non stoppo il video perchè ho scoperto che se stoppo il video le voci arrivano alletrate quindi sponsorizziamo l'altro canale non si vede chi sta scrivendo comunque lo metto qua vanno a farvi vedere cavolo eccolo qua il canale di oh minchia guardi a pronunciarlo sembra che mi ballo su onda tutti i video iscritti 151 ora sto pensando chi ancora devo sponsorizzare non mi ricordo più ah si si ora mi sono ricordata non ve lo dico questo lo stocchiamo naturalmente devo dire che se li merita gli iscritti i 151 forse un po' di più vabbè tra poco devo fare il tutorial per come fare vabbè non spoilerò niente solo dico che faccio il tutorial per come fare il coso come si chiamano le macchine ok ho stoppato un attimo perchè non potevo ah si 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 trovato l'ho trovato dove sta ah certo siccome si chiama vabbè si lo dico the galaxy serve mi trovo the galaxy 2 auguri 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 e aca ci chiamo proprio gennax server lo cerchiamo noi senza prendere gli altri titoli ma non ci trova niente stoppone fino alla fine alla fine alla fine alla fine ci siamo arrivati iscritti 79 80 diciamo e questo c'è nel trailer purtroppo su questo canale non posso dire niente posso dire soltanto che a me 100 iscritti ci deve arrivare bene cambiamo canale questo è facile da indovinare aspetta ci vuole tanto per pensare ah si veramente me l'ho già ricordato alessandro sperma di franzo so va bene e questo canale sono un po' il cucciolo un cane spettrale e va bene il canale vabbè si il canale è bello vediamo iscritti 78 un po' di più e iscrivetevi commentate i suoi video se lui vuole commentate poi dovete chiedere a lui io non so niente e va bene per questo è tutto non è tutto perché devo sposare gli altri due canali no uno uno si altro canale questo è il canale di Laco o 00 Laco non so 00 Laco o Laco o Laco o Laco o Laco video fantastici vabbè si è un canale bello figo va bene per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima alla prossima puntata di sponsorizzazioni perché non sono finite qua e ci vediamo ciao 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 ciao